benvenuti benvenuti al secondo appuntamento col golem's cafe quest'oggi siamo in una nuova location siamo nell'ufficio dei golem e abbiamo con noi un ospite che non potete vedere ma che posso vedere solo io ma prima sigla durante la settimana passata abbiamo avuto un unico articolo ma bello pregno bello cita di cose belle belle il conflitto ludico ignorante di aldo impalmi che vi invito a riprendere sul nostro sito di golem's news ma ora sigla mentre giovedì 25 all'ora 21 avremo la terza tappa del golem's tour vi aspettiamo in lunetta gamberini dalle ore 21 mi raccomando non mancate questo golem's tour che sta piacendo a tutti incredibile e meraviglioso ma ora sigla con questo il golem's cafe termina vi auguro una felice anno nuovo e una meravigliosa pasqua a voi ea tutta la famiglia ma adesso sigla non è solo v cottage non 2 fazendo 40 Ke 44